Mambo! Prontissimi! Allora, visto che in Sicilia si fa il bagno, oggi cosa ci fai? Una pasta estiva! Una pasta estiva, no? Facciamo dei gnocchi, no? Dei gnoccoli! Che differenza c'è con i gnocchi e i gnoccoli? Allora, intanto un impasto fatto con semela di grano duro, acqua, e siccome gli gnoccoli sono al nero d'avola, o un vino rosso, quello che volete, ho utilizzato del vino rosso ridotto. Giustamente usa il nero d'avola perché è un vino rosso sotigliano, tipico, peraltro buonissimo. Buonissimo, ma utilizzate quello che avete. Quello che vuoi, della vostra regione, un bel vino rosso. Esatto, va benissimo. Un po' corposo, ma neanche troppo, cioè il nero d'avola è giusto. Va bene anche un cirà, un cangiovesse, insomma. Quello che volete, ok. Gli gnoccoli sono una pasta, praticamente non con gli gnocchi, è una pasta che viene poi cavata, gli gnoccoli cavati perché vengono schiacciati. Esatto, servono anche della salsiccia per dare un po' di ingredienti. Il condimento è fatto con scalogno, erbe aromatiche, salsicce e semi di finocchio, forse per la prima parte. Poi abbiamo un ragù di funghi con dei funghi misti, quelli che insomma abbiamo a disposizione. Utilizzo la cotenna dello spec che ho chiesto se è permesso a Barbara, me l'ha prestato. E il pecorino alla fine. Ok, è una ricetta dedicata questa, vero? Esatto, è la ricetta che Sabina e i suoi fratelli dedicano a mamma Alma di 87 anni, in provincia di Udine. Quindi è tutta tua Alma questa. Alma, questa ricetta è per te. E cominciamo, quindi imparala anche perché poi è carina. Eccola qui. Abbiamo anche la foto. È bellissima, a me piace la foto perché immediatamente vedo le persone a cui si rivolge questa vita. Ora io questa qua lo passo ad Alfio. Cosa ti hai fatto, scusami? Hai messo vino, acqua e vino. E adesso Alfio, perché stamattina mi ha detto che mi voleva aiutare, ha detto sai voglio fare uno stagio nel tuo locale. Vieni, vuole venire in Sicilia in vacanza. È vero, è vero. Ah, capito. Dico al massimo che faccio fare il posteggiatore fuori. Esatto, vai lì nella postazione del perse. E cosa deve fare? Deve impastare... Facciamo un bel impasto. Eccolo qua, è giungito una... Noi ce l'abbiamo già pronta. Noi ce l'abbiamo già pronta, sì ovviamente Antonella. Anche perché questo impasto deve riposare fuori dal frigorifero a temperatura ambiente. Quindi vedete che è scuro perché dentro c'è acqua e nero d'avola. Quindi il vino rosso. Esatto, li prepariamo già così una volta che abbiamo l'impasto. Così li facciamo vedere. Sembrano un po' dei cavatelli, posso dire, no? I gnocchi, cioè non sono dei gnocchi, sono... Vedete, paese che vai, dici tu, la che trovi. In realtà per essere precisi sarebbero gli mezzi gnoccoli, come la mezza busiata, soltanto una questione di lunghezza. Ok. Ok, quindi noi facciamo, prendiamo un pezzettino di pasta che ha questo colore bello autunnale, insomma. Appunto del vino rosso. Del vino rosso, sì. Facciamo il lungo... Facciamo, è molto semplice, anche divertente fare con i bambini, perché si utilizzano le polpastrelli delle proprie mani, quindi la dimensione... Bella morbida con questo un po' dell'acqua. Ecco, se fosse in frigorifero sarebbe più tenace, quindi il consiglio è di tenerla fuori al frigorifero. Poi quattro polpastrelli, schiacciamo in questo modo, e li stacchiamo. Quattro? Così. Quattro. Gli gnoccoli in realtà, quelli originali, qua siamo nella zona del Trapanese, quindi la pasta tipica del Trapanese, vengono fatti con così, questo è quello lungo. Siccome è un sugo di salsicce e funghi, mi piace il formato più corto, in modo che si raccoglie bene. Ok. Quindi li facciamo a metà. Sì. Sennò sarebbero otto dita. Esatto, bravo. Le dita dì, bravo. Uno. E schiacciamo. Qua. E schiacciamo, in questo modo. È molto facile. Molto semplice. Il faccio è dello gnocco. Qui li ho preparati, ovviamente, un po'. Esatto, guardate che belli. Sembra di fagiolini poi, la fine, no? E questi incapi sono belli, perché raccolgono il sudetto. Sembra di fagiolini, sì, perché raccolgono il sudetto. Siccome è una pasta, come vedi, abbastanza spessa, quindi non ha il classico due minuti di cottura, si richiede un po' di più. Allora, andiamo a togliere la semola in eccesso. In questo modo. Vieni pure. Vado? Sì, sì. Grazie. L'ho tinta, eh? Dai, Alfio. Voglio fare il posteggiatore, preferisco. Eh, sì, tu vuoi mangiare. Mi fa male le braccia. Tu vuoi mangiare, come è il tuo problema, capito? Mi fa male le bracci. Ma che male, ma l'altro. Dai, dai, che ce la fai, Alfio. Eh. Ce la puoi fare, ti sei allenato tutta l'estate. Non so. Ecco. Allora, pasta calata. Perfetto. Ci dedichiamo adesso alla nostra salsa. Quindi, dicevo, abbiamo un soffritto, che qui l'ho fatto un attimo partire, con lo scalogno tritato, il nostro scalogno. Sì, anche se non lo tritiamo, lo sapete usare. Sì, aggiungo i semi di finocchio, perché la salsiccia tipica delle mie parti è con i semi di finocchio. È vero che poi c'è anche a chi non piace. Però a chi piace, se non sono nella salsiccia, li mettete pure nella salsiccia. Esatto, che dà un buon profumo. Anche al ragù, quando ho fatto un ragù classico, qualche semi di finocchio mi piace. La salsiccia, che è priva del budello, e la andiamo a sgranare. O la mettiamo in una bulle, con un goccino proprio veramente di olio, giusto un po'. Mamma mia, Alfio, sei veramente top, bravo. Sì, sì. Facciamolo lavorare un po', che magari dimagri... Si tiene impegnato. Allora, la sgraniamo così con le mani. Sì, proprio la salsiccia. In realtà questo è un ragù molto veloce, quindi non richiede l'ora di cottura, perché una volta che la salsiccia è cotta, adesso questa può bastare. È un ingrediente che si può proprio cuocere senza grassi, la salsiccia. Ah beh, certo, perché già a grassi non si può. Le nostre pentole antiaderenti, ormai... Assolutamente. Io nel soffritto, grazie Avelina, perché magari io sono andata avanti col soffritto, metto sempre dell'acqua e un goccino d'olio, proprio veramente un po'. L'acqua è quella che cucina bene la cipolla e la rende poi digeribile, che non si ripropone. No, ma non è che sta facendo una battuta, eh? È la verità, l'acqua con la cipolla invece è... Si cucina bene. È interessante. Facciamo rosolare bene questa salsiccia, in questo modo. Ho preparato un mazzetto aromatico, con le erbe aromatiche che più vi piacciono, sicuramente quello termoresistente, quindi l'alloro, la salvia, il rosmarino e il timo. Ne andiamo ad aggiungere nella nostra preparazione e poi vino bianco. Ecco, ma se c'avessimo un po' di nero d'avola potremmo sfumare anche con il vinto che l'abbiamo utilizzato. Sì, 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 assolutamente. Magari ce l'abbiamo già aperto, usiamo anche il rosso. Assolutamente. State lì a dire, no, qua ci vuole il bianco. Anche la birra possiamo mettere. Vabbè, magari quello, nero d'avola usiamo. L'abbiamo utilizzato per impastare. Esatto. Questo qui lo lasciamo cucinare circa un quarto d'ora, venti minuti. E guardate come diventa. Finché la salsiccia diventa. Vedete là la cipolla come si ama bene quella salsiccia? È praticamente sparita. Così. Faccio il mazzetto aromatico che adesso lo togliamo. Sì. Eccolo qua. Quanti giorni devo dare per licenziarmi? 15 giorni. 15? Sì. Va bene come settimana a te. Libero un po' il campo. Si non lavora. Allora, passiamo i funghi. I funghi che noi ne abbiamo tanti nel bosco, anche Alfio. Quelli misti. Quelli che trovate, misti. Chiaramente più buoni sono se avete la fortuna di trovarli, come noi. Il po' dei porcini. Il po' dei porcini, insomma. Adesso è il periodo, ancora per poco, ma se piove qua... Ci sono, spuntano. Beh, se piove poi fa caldo, sì. Se piove basta, finisce. Oramai sei un'esperta, è vero, Antonella? È ormai del bosco, io sono diventato un'esperta. Ecco qua. Adesso ci sono i cervi in amore, dovete sentire i bramiti dei cervi, sono impressionanti. È come se fossero fuori casa tua, eh. Beh, uno ce l'hai che gira qua per caldo. Sì, uno ce l'ho. Anche i cinghiani, qua i cinghiani. Però è bellissimo, eh, perché vedi proprio la natura in questo periodo e vedi i cambiamenti da quando vivo nel bosco e ce l'abbiamo anche noi, il bosco qui dietro. Vedete proprio anche il fogliacino, come cambiano le stagioni. Quando tu vivi in città, non hai la misura delle stagioni che cambiano, invece vivendo in campagna, sì. E questo è bellissimo. Allora, questo lo spostiamo, il vino, erano i 400 ml, a noi servono 100 ml in ricetta. Ah, ok. Però ne abbiamo messo 400 ml e l'abbiamo fatto ridurre. Perché questo poi ti serve per... Per impastare. Ah, ti serviva per impastare, ok. Sì, l'abbiamo spostata. Dopodiché abbiamo la nostra cotenna di speck, gentilmente concessa. Quindi in Valpusteria, oltre le patate, ci prendiamo anche lo speck. E invece lo speck mancherebbe altro. Aggiungiamo i funghi, andiamo a condire. Quindi, padella sempre molto vivace quando parliamo di funghi, perché devono avere una cottura molto... Che c'è Alfio? Che è successo? Facciamo spadellare. Non c'è, va. Sì, devi fare tutto quello lì. Sì. Guardate come diventano i funghetti. Ho allungato giusto un po' di acqua, di brodo, acqua di cottura e poi andiamo ad eliminare la cotenna, sì. La parte dello speck che ha fatto il suo, ha fatto il suo lavoro. Un po' di sapore. Ora per rendere questa preparazione un po' più cremosa andremo a frullare una parte di questi funghi. Siamo pronti qua, c'è una caraffa e il frullatore. Giusto un po'. Una parte perché così prende il sugo, capito? Sì, ci amalgama bene. Senti, se non avessimo una cotenna di speck va bene una cotenna di maiale qualunque. Sì, prosciutto crudo. Non è prosciutto crudo, lo diciamo. Anche nulla, voglio dire. Ecco, non arrendetevi. Noi vi diamo tante idee ma se non avete niente non usate niente. Esatto. Parte di questi si frulla perché ha ragione con un po' di sughino. Esatto. Perché in questo modo viene una bella cremina. Questa è buona anche sui crostini, eh? Questa è veramente buona anche con un bel crostino. Grazie Antonella. Ecco che adesso la magia perché così la pasta non risulta slegata ma è tutta bella cremosa. Io dico sempre frullate sempre una parte di verdura perché questo amalgamerà molto meglio la pasta. Poi andiamo ad aggiungere tutto il nostro... Tutto la salsiccia con la cipolla con lo scalogno. Esatto. E guardate cosa diventa, eh? Ed è un ragù di salsiccia e funghi molto veloce perché insomma non ha ricottura. Salsiccia con i funghi è la morte sua, eh? Togliamo la pasta. Aspetta che ci trovo questo. Usiamo. Quasi lo utilizziamo per la decorazione e siamo quasi pronti per condire il condimento. Siccome ne abbiamo fatto tanto questo condimento ne togliamo un po'. Ah, sì perché abbiamo fatto più condimento che pasta. Sì. E lo facciamo così per non farlo affogare nella pasta. Vediamo Alfio vediamo il tuo risultato. Ah, direi perfetto. Forse un pochettino più acqua devi aggiungere. Puoi aggiungere 17 grammi di acqua per favore. Voglio vedere. A tempi 32 gradi però l'acqua. Io assaggio il sugo e vedo. L'acqua qui. Sta facendo sta facendo il lo stace quindi. Il sugo perfetto. Allora andiamo adesso a coccolare la nostra pasta. andiamo a coccolare in questo modo e poi ci manca tutto il pecorino qua. Sì, il pecorino è la parte adesso se vogliamo rendere già va bene visto che è gustoso il sugo per i funghi già il fungo di tè di peste un po' di pecorino lo metterei però perché no? Noi lo mettiamo adesso. Allora chi vuole fare un po' qualcosa di più diciamo gourmet chiamiamolo così basta fare una fonduta di pecorino e lo aggiungiamo ma va benissimo anche grattugiato vai a pioggia a pioggia vado vorrei esagerare così va bene a sentimento ah beh se vado a sentimento il dorone mi sarà attento con me mettiamo un po' di prezzemolo fresco che comunque mi trova la panella il prezzemolo perché va con i funghi io non lo amo tanto ma vuole lo mettere un altro po' di puccino mettiamolo e via e siamo pronti per impiattarli brava è pesante sta questa è una bella saltata e via e questi sono i gnocculi al nero d'avola con salsicce funghi di Fabio Potenzano e poi qualche scaglietta così di pecorino perché ce va e ci piace vai buon appetito